Alberto, siamo all'interno di un'installazione che rifletta in un certo modo il paesaggio mentale della tua opera come è stato creato, creati i proietti più importanti che tu hai fatto mi piacerebbe sapere che cosa tu vuoi comunicare con la tua architettura non è facile riassumere ciò che voglio fare in un'intervista di questo tipo con poche parole potrei cominciare con una frase che ho ripetuto moltissime volte si tratta di un poeta spagnolo che tu conosci bene, Federico García Lorca che credo sia conosciuto anche in Italia diceva escrivo para que me quieran cioè scrivo per essere amato ed è quello che fanno tutti coloro che creano è chiaro che si fanno delle cose per essere amati e questo è anche un po' demagogico quello che vorrei fare con l'architettura è un'altra cosa che può sembrare ugualmente demagogica ovvero rendere felici le persone che vivono le architetture tutte queste sono idee potrei parlare dell'idea perché in architettura è necessario avere un'idea che possa essere tradotta in costruzione anche tu da buon architetto e professore di architettura sai bene che è necessario avere un pensiero da sviluppare se questo non può essere portato avanti è inutile in genere faccio un paragone è più facile capirlo se lo si confronta a una poesia nessuno può scrivere una poesia se non sa cosa dire se manca l'idea che sia una poesia d'amore o di guerra bisogna scegliere le parole giuste inoltre è necessario organizzare le parole non soltanto per tradurle in idee ma per realizzare quel qualcosa in più che è la poesia in architettura è la stessa cosa ne abbiamo parlato molte volte ed è semplice ma credo che le persone possano capirlo meglio paragonando l'architettura alla poesia vorrei che la mia architettura faccia commuovere colpisca il cuore e l'anima e questo è il mio intento Alberto, tu costruisci in più l'architettura con qualcosa che ha della pura magia con l'elemento naturale per eccellenza che è la luce per me tu sei il maestro contemporaneo per la luce una luce che fa diventare l'architettura un'altra cosa trascendentale sospessa nell'espazio ma sospessa nel tempo come si fa questo? io tornerei a ripetere quello che tante volte è stato scritto ovvero che un architetto inizia a essere architetto quando capisce che la luce è il primo strumento con cui lavorare dico strumento perché la luce non deve essere data per scontata è gratuita e a volte la gente non l'apprezza abbastanza o pensa che è qualcosa di misterioso quel signore che si chiamava Newton creò le leggi della gravità come quella del 9.8 sviluppò le leggi della luce creò delle leggi con la stessa precisione che si usa per lavorare la pietra e utilizzare la luce questo in architettura è importante per non dire fondamentale siamo a Roma ed è evidente che a Roma ci sia un'architettura assoluta però ci sarebbero due monumenti che considero di grande interesse uno è il Pantheon il Pantheon è un esercizio di luce quando entra la luce si realizza un miracolo meraviglioso e semplice a rendere possibile tutto ciò è la perfezione delle dimensioni e della scala l'altro monumento che apprezzo particolarmente è il Baldacchino di Bernini questa mattina lo guardavo e il sole toccava le pareti laterali creando una luce meravigliosa fluttuante che rappresentava tutto quello che sapeva fare Bernini maestro della luce per eccellenza in questo modo attraverso la luce Bernini ha sviluppato l'architettura dei suoi predecessori il Baldacchino è costruito con la luce non è solo un esercizio formale di colonne armoniche e grandiose o un esercizio stilistico è soprattutto un esercizio di luce abbiamo parlato del Pantheon delle colonne del Baldacchino di Bernini dei cassettoni del Pantheon che hanno prodotto una storia meravigliosa allora possiamo dire in questa mostra quello che abbiamo creato per la prima mostra che ho fatto di te Light is More Light is More la luce è di più moltissime grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti